A tutti voi buona giornata e bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta. Con a voi la linea. Vi abbiamo raccontato nel corso del telegiornale di una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno nel settore dell'istruzione del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del cambio al vertice dell'ufficio scolastico regionale. Retto fino a ieri da Patrizia Pavatti. Questa mattina è già operativa Daniela Beltrame che copre nuovamente questo ruolo che aveva già ricoperto nella nostra regione per cinque anni. Tutti colti di sorpresa. Vi abbiamo detto, abbiamo parlato dei sindacati che non erano al corrente della notizia. Una notizia che non era nota nemmeno alla regione. Tanto è bastato per mandare su tutte le furie l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen. Nessuna comunicazione ufficiale tra ministero e regione, nessun contatto con l'ufficio scolastico regionale da mesi lasciato in una condizione di precarietà destabilizzante e logorante, afferma Alessia Rosolen. Questa mattina la dottoressa Daniela Beltrame ha sostituito la professoressa Patrizia Pavatti nel ruolo di direttore dall'insediamento del nuovo governo. Le comunicazioni del MIUR hanno iniziato a latitare su ogni fronte. Quanto successo poche ore fa, continua Rosolen, evidenzia modalità molto irrituali che vanno ad acuire criticità già evidenti. Insomma diventa ancora più difficile e più teso il dialogo tra regione e ministero su un fronte molto delicato, qual è quello dell'istruzione. Rosolen esprime incredulità e imbarazzo per modalità, dice che infrangono qualsiasi protocollo istituzionale. A questo punto il percorso è segnato, continua Rosolen, servono chiarimenti urgenti sull'ufficio scolastico regionale, sul ruolo del direttore, sul percorso di regionalizzazione intrapreso nei mesi scorsi e poi misteriosamente scomparso, avvolto da un alone di mistero. Secondo quanto riferito recentemente da un ministro, evidenzia Rosolen, la nomina dei due commissari della commissione paritetica sarebbe molto vicina. L'unica strada è quella del lavoro serio e finalizzato al bene del comparto. L'unica condizione è che i rapporti, se non amichevoli, siano quantomeno contraddistinti dal rispetto che istituzioni e contesto richiedono. La forma, sottolinea ancora l'assessore, diventa anche sostanza, soprattutto in alcune situazioni. Tengo a ringraziare il direttore Pavatti per quanto ha saputo fare in termini di risultato e per l'atteggiamento collaborativo disponibile e irreprensibile, sempre dimostrato che arriva, raccoglie un'eredità pesante, bene che ci sia la piena consapevolezza da questo punto di vista. Dunque torneremo sicuramente a parlare di questa vicenda, un cambio al vertice dell'ufficio scolastico regionale che ha colto tutti di sorpresa. A partire appunto dalla regione avete sentito in queste parole tutta l'irritazione dell'assessore regionale Rosolen che ha preso atto di questo cambio al vertice e ha speso. Le avete sentite parole molto buone nei confronti di Patrizia Pavatti che appunto all'insaputa di tutti questa mattina è stata sostituita nel suo ruolo di dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Torneremo naturalmente sulla vicenda nel corso delle nostre edizioni del telegiornale e adesso ci colleghiamo in diretta con la nostra Paola Treppo, scopriamo insieme dove ci porta oggi. A te la linea, buongiorno Paola. Buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi vi abbiamo portato a Precenico in questa placida campagna della bassa friulana per raccontarvi una bella storia, una storia di famiglia, una storia di imprenditoria femminile. Siamo nel negozio di coniglio natura di Precenico in Via Lignano. Dietro di noi ci sono i campi con questo fascino autunnale di oggi. Questa famiglia, pensate, sono tutti al lavoro in questo momento perché pensate qui ogni anno vengono allevati 300.000 conigli. nelle condizioni migliori che si possa richiedere per un animale. Pensiamo alle brutte cose che sentiamo sugli allevamenti delle galline, dei polli. Invece qui la storia racconta di naturalità. Naturalità è una famiglia partita nella prima o seconda metà del secolo scorso dal Veneto. Anche se poi è diventata anche friulana l'imprenditore. Sono nonno e nonna, lui fa l'imprenditore. Lei è un'appassionata invece di campagna, di allevamento. Decide di diventare anche lei imprenditrice e prende avvio questo allevamento di coniglio, una specie francese. Poi il marito si accorge che la moglie guadagna più di lui e riesce. Entrambi decidono di investire su questo prodotto che è un prodotto naturalissimo. E quindi man mano di generazione in generazione arriviamo oggi in questo bel negozio. Uno spaccio, quello che è stato uno spaccio che non propone solamente il coniglio allevato in maniera naturale all'aperto nel rispetto appunto della sua salute, del suo benessere. Sappiamo che i conigli, ce lo raccontavano le nostre nonne, sono degli animali estremamente delicati. Quindi se il coniglio mangia bene è un prodotto che poi dopo ci dà la possibilità anche a noi di essere appunto alimentati in maniera corretta. E quindi la realtà qui di Coniglio Natura Preccenico adesso è arrivata ad alti livelli. Pensate, ha cercato anche la certificazione biologica. Però essendo il coniglio un prodotto di nicchia, anche andando direttamente, pensate, di persona al Ministero, questa famiglia non è riuscita a ottenere insomma un disciplinare perché non esiste per quanto riguarda il bio sul fronte del coniglio. Per cui l'impegno della famiglia intanto è quello di predisporsi all'eventuale certificazione biologica che potrà arrivare in futuro, nel frattempo il loro impegno è quello di produrre un prodotto appunto naturale nel migliore dei modi anche attraverso dei trasformati. Insomma una storia di successo dell'economia delle donne, del nostro Friuli Venezia Giulia. E qui da Preccenico ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo. E allora un aggiornamento di pochi minuti fa. Sette miliziani islamici sono stati condannati a morte in Bangladesh per un attacco al caffè di Dhaka in cui nel 2016 furono uccise 22 persone, tra cui 9 italiani. Lo riferisce la BBC nel suo canale online. Tra le vittime italiane della strage ricorderete anche Marco Tondat di Cordovado e Cristian Rossi di Tavagnaco. E adesso ci spostiamo a Morsano al Tagliamento per parlare della visita questa mattina del presidente della regione Massimiliano Fedriga allo stabilimento della Maschio Gaspardo. Vediamo. Presidente, sicuramente la Maschio Gaspardo rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio anche con questa nuova linea di produzione dimostra di voler essere sempre più competitiva sul mercato. Sì, io sono contento ovviamente che in agricoltura l'innovazione è fondamentale. Maschio Gaspardo sta dimostrando che può essere competitiva a livello internazionale per questo anche Regione Friulianza Giulia attraverso la sua controllata Friulia ha voluto intervenire per supportare l'impresa, per reggere un mercato assolutamente competitivo ma perché Maschio Gaspardo ha tutte le potenzialità di crescita e di poter acquisire nuovi paesi come clienti ed è strategico, penso, per tutta la regione. Anzi, sono esperienze che sicuramente ci aiutano e aiutano a capire che chi investe nel valore aggiunto del prodotto dal Friulianza Giulia può guardare al mondo sicuramente non in seconda fila rispetto ad altre realtà. Ecco, fare innovazione oggi è assolutamente fondamentale. Questa è un'azienda che dimostra di saperlo fare bene. Esatto, non a caso la nostra regione sta proprio puntando sulla parte innovazione terziario avanzato con la fondazione che stiamo costruendo insieme ad Area Science Park e da altre partner private, Miagura, altri paesi perché il terziario avanzato e la logistica penso siano il cuore dell'economia del nostro territorio e sullo quale possiamo svilupparci. Che vuol dire aiutare le aziende ad essere competitive aiutare nuove aziende che si vogliono insediare in Friulianza Giulia a diventare un punto di riferimento per tutto un mondo che ci guarda con estremi interessi in particolar modo quello del centro del suo Europa che è un mondo in forte crescita, basta vedere la crescita del Pilanuo e che nel Friulianza Giulia può trovare il cuore logistico e innovativo. Procediamo con un ulteriore aumento di capitale abbiamo già investito 5 milioni, ne aggiungiamo altri 5 per cui arriviamo a quelle che sono anche le soglie per Friulia come importi da poter investire in aziende un'azienda che cresce, un'azienda soprattutto internazionale con un'ottima filiera, un ottimo indotto ed è soprattutto un'impresa che riesce a competere sui mercati internazionali grazie alla tecnologia e all'innovazione questo è un esempio come Friulia riesca sempre di più a guardare sia al piccolo che al grande senza perdere di vista quella che è la ricaduta sulla regione la crescita non solo del fatturato e del Pil ma anche dell'occupazione e questa è sicuramente una grande azienda perché è più di 300 milioni di euro di fatturato 2.000 dipendenti, 8 stabilimenti in tutto il mondo, insomma è un colosso sì è un colosso ma ripeto la capacità di Friulia è di essere il più possibile versatile di riuscire ad aiutare le grosse imprese, i grossi operatori internazionali come Maschio e Caspardo ma anche la piccola impresa innovativa di start-up giovane con magari due o tre dipendenti da seguire e da far crescere quindi questa è la grande forza che riusciamo a mettere in campo e oggi si inaugura qui una nuova linea di produzione questo testimonia anche il grande sforzo che state facendo per innovarvi continuamente certo, oggi viene inaugurata una nuova linea di produzione per la seminatrice Crono una macchina innovativa, una macchina che ha 7 brevetti molto innovativa dal punto di vista tecnico una macchina che ha un design sviluppato insieme alla scuola italiana di design e possiamo dire permette il raddoppio della velocità per cui è un aumento della produttività per i nostri agricoltori ma è anche una macchina che quest'anno, nel 2019, ha vinto a Parigi il premio come macchina dell'anno per cui rappresenta un'innovazione il futuro di questa azienda, il futuro di Maschio e Caspardo un'azienda sicuramente molto grande, 2.000 dipendenti, più di 300 milioni di euro di fatturato 8 stabilimenti in tutto il mondo, insomma siete sempre più competitivi beh, è un'azienda che vede le sue radici in Veneto e in Friuli ma è presente in tutto il mondo con i propri stabilimenti produttivi in Romania, in Cina, in India e con le filiali commerciali dall'America al Sudafrica, in tutti i paesi del mondo abbiamo 14 sedi nel mondo tra sedi produttivi e commerciali fondamentale il sostegno di Friuli assolutamente fondamentale il sostegno di Friuli abbiamo un intervento storico perché Friuli è con noi da molti anni e crede nello sviluppo di questa azienda insieme a Veneto Sviluppo e a Finest stanno sostenendo lo sviluppo del nostro gruppo non solo in Friuli ma anche in Veneto è un'azienda che ha le sue radici in questo territorio ma è sviluppata in tutto il mondo per cui sicuramente dobbiamo pensare ai mercati internazionali e a quello che è lo sviluppo futuro dei nostri mercati investendo nella tecnologia, nell'innovazione e nel design ci fermiamo per la pubblicità subito dopo però torneremo a correre insieme parleremo anche di alberi monumentali a tra poco Di nuovo insieme in diretta con a voi la linea linea che ci viene chiesta dalla nostra Francesca Spangaro che si trova a Udine in compagnia del rettore dell'Ateneo Friulano a te Francesca Buongiorno Alessandra siamo in compagnia del rettore dell'Università di Udine perché oggi nel pomeriggio c'è un appuntamento importante con la presentazione di due libri legati a un evento che ha segnato questa terra, il terremoto del 76 Sì, sono fra i diversi eventi naturalmente che l'Università dedica a questo che è stato poi, ha dato origine allo sviluppo dell'Università ci sarà oggi la presentazione di due libri a opera del collega Marcello Riuscetti dove si descrive, sono due perché in realtà uno è più per esperti, molto più scientifico un altro però reso in maniera più divulgativa aperto naturalmente a lettori non esperti in cui si ricostruisce un po' quello che è la nascita la protezione civile, la sensibilità al rischio e tutta l'evoluzione che ha avuto il rapporto fra Università, Scienza e Società in questi 43 anni che sono passati dal terribile evento In una giornata in cui si torna a pari dei terremoti dopo il tragico sisma in Albania che davvero sta tenendo con il pietro sospeso e anche con preoccupazione tante famiglie anche qua sul nostro territorio Sì, non c'è dubbio che capita a proposito ma ci ricorda come queste evenienze possono eventualmente succedere e bisogna essere assolutamente pronti a fronteggiarle Non a caso noi abbiamo anche la fortuna e il privilegio di avere una cattedra UNESCO sulla gestione proprio delle emergenze che ha sede presso l'Università di Udine e dovremo fare tesoro di queste conoscenze oltre che naturalmente tutta l'attività che viene svolta alla protezione civile e ai nostri volontari non solo per prevenire ma anche per far fronte quando purtroppo capitano queste emergenze Un'università fortemente legata al territorio questo insomma è sicuramente una cosa che vi contraddistingue vi distinguerà, vi contraddistinguerà anche in questo fine settimana perché sarete in campo per la ricerca con Teleton lei e più di 20 squadre? Qual è il numero? Sì, 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 saremo veramente in campo e sull'asfalto a correre in circa 600 partecipanti, 25 squadre mi cimenterò anch'io, non sarò forse fra i migliori ma sicuramente con lo spirito assolutamente giusto per affrontare una manifestazione del genere e dare il giusto contributo a una ricerca a una, come dire, ricerca di fondi così importante E allora, buon Teleton e buon lavoro a lei noi ringraziamo il retto Roberto Pinton per essere stato con noi e da Udine è tutto, a voi la linea Grazie a Francesca Spangaro, vi ricordo che di Teleton insomma dei preparativi in vista di questo importante appuntamento ma anche degli scopi che questa manifestazione si pone ne parleremo con i protagonisti durante la puntata di questa sera di Eletroshock alle 21 Intanto siamo arrivati al momento dell'ospite che vado subito a presentarvi è tornato a trovarci Andrea Amaroè grazie per essere di nuovo con noi il presidente della Giant Trees Foundation che oggi è qui anche in un'altra veste quella di referente tecnico per gli alberi monumentali della regione Friuli Venezia Giulia di alberi monumentali e più in generale del nostro patrimonio boschivo abbiamo parlato moltissimo purtroppo però solo dopo Vaia è un mondo affascinante ovviamente che lei conosce molto bene l'obiettivo è quello di farlo conoscere anche ad altri c'è un evento a cavallo tra sabato e domenica che avete organizzato allora ce ne parli ci racconti un po' che cosa succederà come si svilupperà e anche qual è lo spirito che anima i Giant Trees Days Ecco, il Giant Trees Days è proprio nato è un convegno internazionale fortemente voluto dalla fondazione ma a cui collabora anche la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e si sviluppa in tre giorni in realtà partendo da venerdì che è la giornata appunto più tecnica dedicata ai tecnici dei comuni della regione ma anche a livello italiano di quelli che gestiscono poi il verde pubblico e una seconda giornata che invece è molto più divulgativa in realtà è più che una giornata una serata dove andremo a raccontare appunto al vasto pubblico il perché bisogna tutelare le foreste gli alberi monumentali e non in città e nel bosco e a capire anche come fare questa tutela anche in funzione degli eventi atmosferici che cambiano all'interno di questa serata ci sarà anche la presentazione di un documentario è una prima nazionale in realtà è un documentario proprio di una spedizione che abbiamo effettuato nella foresta amazzonica ancora prima che arrivasse diciamo i fuochi o comunque gli incendi che hanno devastato questo territorio e ci sarà poi anche la premiazione del Tree of the Year un contest lanciato a livello europeo ancora una decina di anni fa l'Italia per il primo anno si affaccia a questo contest ma mi pare che siamo ben attrezzati ha vinto devo dire a mani basse la Puglia con 350 mila votazioni per il loro albero che è la quercia di Vallonea e che quindi parteciperà poi al contest europeo quando si parla di alberi monumentali viene così spontaneo pensare appunto alla foresta amazzonica o comunque a paesi esteri alberi monumentali ci sono anche nel nostro paese? ci sono nel nostro paese soprattutto anche nella nostra regione che è molto ben rappresentata anche a livello nazionale abbiamo 3000 alberi iscritti in Italia e la nostra regione ne ha circa 600 e l'idea è quella anche di amplificare questa tutela anche ad altri alberi uno degli eventi che si terrà invece la domenica è proprio un percorso nel parco di Miramara dove ci sono circa una trentina di esemplari e questo ci riporta un po' alla connessione col Sud America perché appunto sono stati portati poi buona parte anche da Massimiliano e faremo appunto questo breve percorso con gli studiosi che parteciperanno al convegno proprio per poter poi esplicitare quello che scopriremo anche assieme a loro alla persone comuni attraverso delle visite guidate il prossimo anno Ecco, si accennava prima a Vaia cosa è cambiato dopo Vaia? Devo dire che Vaia ci ha obbligato a pensare alla necessità delle foreste e alla loro presenza ci ha obbligato a pensare alla presenza di questi ospiti muti che lavorano incessantemente per il nostro benessere e ha risvegliato parecchie coscienze si è mosso molto si è mosso molto attorno alle foreste sia a livello di studio sia a livello di attenzione fortunatamente e quindi anche questo convegno vuole incentrare ancora l'attenzione far vedere ancora di più che cosa dobbiamo fare il che non è sempre così scontato ad esempio molto spesso proprio a causa della tempesta Vaia in città tagliamo gli alberi per paura che cadano che facciano danni e questo non sempre è corretto o non sempre viene fatto nella maniera opportuna gli alberi non sempre cadono non sempre sono dannosi anzi, il più delle volte non lo sono affatto e dobbiamo imparare a rispettarli a tutelarli nella maniera corretta Commentiamo insieme le immagini che stiamo vedendo in questo momento Ecco, questa fa parte di un progetto che è la Forest Summer School anche questo voluto dalla nostra fondazione che ha cercato di mettere insieme volontari, studenti professionisti del settore per tentare di recuperare quello che è successo ai nostri boschi abbiamo lavorato volontariamente appunto nei comuni di Sapada di Ampezzo di Moggio Udinese per la ricostruzione di questi territori ma soprattutto dei boschi ed è stata un'operazione bellissima devo dire che ripeteremo il prossimo anno ancora di nuovo nei tre mesi estivi anche perché moltissimi ci hanno chiesto appunto di poter partecipare a questa rinascita del bosco e devo dire che siamo assolutamente contenti di questa cosa lanceremo proprio in questi giorni nei giorni della Giant Tree Days uno dei progetti per il prossimo anno che sarà 1 per 100.000 cioè l'idea è di piantare il prossimo anno 100.000 alberi nella nostra regione assieme a tutte le associazioni gli enti che ci sosterranno ma soprattutto con i volontari che proprio verranno ad aiutarci insomma maggiore consapevolezza da parte di tutti rispetto al patrimonio che esiste anche nella nostra regione che evidentemente ha bisogno dell'aiuto di tutti aiuto che in occasione di questa iniziativa molti hanno voluto dare peraltro con grande entusiasmo allora ricordiamo l'appuntamento Giant Tree Days a Villa di Toppo Florio a Buttrio a partire da venerdì mattina quindi ci sarà venerdì mattina poi si estenderà tutta la giornata sabato dalle 18 e la domenica invece a Miramare appunto dalle 10 con un seminario di studi ringraziamo Andrea Maroe per averci raccontato di questo evento e anche dei prossimi progetti della fondazione ci fermiamo qui grazie per essere stati in compagnia subito dopo di noi l'appuntamento con Family Casa in studio Valentina Viviani grazie arrivederci grazie a tutti Grazie per la visione!